Musica Benvenuti al consiglio d'appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di martedì 30 aprile. Cominciamo con Avellino con cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi e nubi pomeridiane associate a deboli piogge. I venti saranno deboli e proverranno da direzione variabile. Ad Ariano nubi sparse e schiarite con possibili deboli piogge dal pomeriggio. A Cervinara cieli in prevalenza nuvolosi con nubi nel pomeriggio e deboli piogge. A Lioni nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Nubi pomeridiane associate a deboli piogge anche a Baiano. A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno deboli, mare poco mosso. A Salerno giornata in prevalenza poco nuvolosa. I venti saranno deboli, mare poco mosso. A Benevento cieli in prevalenza nuvolosi con deboli piogge dal pomeriggio. Schiarite in serata. I venti saranno assenti o deboli. A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli. Le temperature da Avellino, temperatura massima di 14 gradi, 3 gradi la temperatura minima. A Napoli 15 gradi la temperatura massima, 9 gradi la temperatura minima. A Salerno 16 gradi la temperatura massima, 10 gradi la temperatura minima. A Benevento 17 gradi la temperatura massima, 6 gradi la temperatura minima. E concludiamo con Caserta dove la temperatura massima potrà raggiungere anche i 19 gradi, la minima 4 gradi. Ed è tutto anche per oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.